La Regione Puglia con l'aiuto dei comuni, dei rispettivi comuni, riporta a Brindisi dopo 49 anni il Giro d'Italia. Una bellissima notizia, una manifestazione fantastica che rappresenta uno degli sport che forse meglio di altri rappresenta l'identità contadina, l'identità della fatica del popolo italiano e del popolo brindisino. Quindi siamo orgogliosi di presentare la tappa, poi ce ne sarà anche una seconda da Giovinazzo verso il nord, ma qui stasera a Brindisi festeggiamo il ritorno dopo quasi 50 anni del Giro d'Italia a Brindisi, devo dire con un forte impegno da parte della Regione Puglia.